Navigando sul web si incontrano persone che tengono in casa gli animali più strani dai retteli agli anfibi ai grandi predatori ma ci dimentichiamo spesso di quanto anche gli animali da cortile o da fattoria possano essere degli ottimi amici tanto quanto un cane o un gatto. In questo video un toro di nome Paul si comporta in maniera incredibilmente affettuosa con questa ragazza che lavora in un rifugio tedesco per animali salvati dal macello.